Un'uscita fuori posto che poteva essere risparmiata. E' il parere di tutti coloro che intendono difendere le sorti dei tribunali minori abruzzesi, al contrario dell'Associazione Nazionale Magistrati che ha espresso sgomento e preoccupazione per l'approvazione da parte del Senato della proroga al 2018 per la chiusura dei tribunali. Dopo gli interventi del Presidente dell'Ordine e gli Avvocati di Sulmona Gabriele Tedeschi e del Presidente del Tribunale del Capologo Peligno Giorgio Di Benedetto e l'Organismo Unitario dell'Avvocatura a definire ingiustificata la reazione dell'Associazione dei Magistrati. Per Nicola Marino, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura è un assurdo perché invece di prendere atto delle gravi disfunzioni per i cittadini, i giudici protestano per non essere stati consultati, cosa che oltretutto in Italia avviene molto raramente. L'Avvocatura dice che, spesso esclusa dal confronto con il Ministero della Giustizia, ha invece altre e più forti ragioni di disagio. La prima tra tutte, le proroghe dovrebbero interessare tutto il Paese, visto i danni derivanti da un'irrazionale revisione della geografia giudiziaria. Eppure conclude si va avanti come se nulla fosse. Per Marcello Luparella, coordinatore della Commissione Geografia Giudiziaria dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, è incredibile che l'Associazione dei Magistrati si dica sconcertata e sbigottita per lo spostamento al 2018 dell'entrata in vigore della riforma giudiziaria per i tribunali abruzzesi. Si tratta, aggiunge, di una presa di posizione poco rispettosa dei cittadini abruzzesi e che non tiene in nessun conto l'oggettiva impossibilità di approntare le necessarie strutture per il settembre 2015, il che dimostra come i magistrati considerino prioritarie le loro esigenze rispetto all'interesse pubblico. Ma anche, conclude Luparella, rappresenta uno strano concetto di concertazione, principio sacrosanto ma che dovrebbe essere esteso a tutte le categorie interessate dalla riforma. Non risulta, infatti, che l'Associazione Nazionale dei Magistrati, né in Abruzzo né altrove, abbia mai messo in discussione la sensibilità istituzionale degli organi legislativi e di governo quando essi, nell'elaborazione e nell'attuazione della riforma, hanno sistematicamente e volutamente escluso l'Avvocatura.